Martedì 13 aprile, buongiorno a tutti e bentrovati in diretta anche questa mattina per il nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa e allora prima di andare a vedere come sempre assieme i titoli che troviamo sui quotidiani di oggi, diamo uno sguardo anche al meteo, al nostro Friuli Venezia Giulia che si sta risvegliando in queste ore sotto la pioggia e sotto la neve in montagna. Questa immagine ci arriva dalla zona di Erto e vediamo il paesaggio imbiancato dalle nevicate della notte, dando uno sguardo alle temperature a forni di sopra in questo momento il termometro è sotto 0, meno 0,5 gradi e ancora a Sappada meno 2,5 gradi. Sul Monte Zoncolani il termometro scende ancora meno 6 gradi e 3 decimi. Andando invece a Tarvisio vediamo che sul Monte Lussari il termometro segna meno 6 gradi e 9 decimi mentre vediamo ancora questa immagine che ci arriva da Forni a Voltri meno 0,6 gradi a Tarvisio meno 1 grado e 6 decimi sul Piancavallo. E poi scendendo verso la pianura a Tolmezzo 3 gradi a Udine 5 gradi e 4 decimi a Pordenone 5 gradi e 9 decimi 5 gradi e 2 a Cividale 6 gradi e un decimo a Cervignano 6 gradi e due decimi a Gorizia qui siamo nella zona di Ronchi dei Legionari vediamo il cielo nuvoloso e poi sulla costa a Trieste il termometro segna 6 gradi e 9 decimi a grado 7 gradi e mezzo con una temperatura del mare di 10 gradi e tre decimi e chiudiamo il nostro giro delle temperature con Lignano dove in questo momento il termometro segna 7 gradi e mezzo. Neve in montagna come abbiamo visto pioggia in pianura un po' meno sulla costa dove però ci sono ancora molte nuvole ma adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo per questo martedì. Amici di Udinese TV ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Trevi Meteo nella giornata di martedì il tempo sarà ancora perturbato sul frilli Venezia Giulia. I cieli saranno grigi coperti con precipitazioni diffuse nella prima parte del giorno poi la situazione sarà in graduale miglioramento con schierite via via più ampie ma andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà tra Pordenone e Udine. Cieli dunque nuvolosi al mattino con precipitazioni diffuse in attenuazione entro il pomeriggio poi in serata rasserena il tutto in un contesto climatico freddino per il periodo ma andiamo più in dettaglio ad osservare cosa ci attenderà tra Gorizia e Trieste tempo perturbato precipitazioni diffuse al mattino si attenuano nel corso del pomeriggio a favore di tempo più stabile asciutto e dentro sera avremo rasserenamenti via via più estesi specialmente nelle aree più interne. Le temperature minime e massime sono piuttosto contenute per il periodo da segnalare inoltre ventilazione vivace al mattino dai quadranti settentrionali sul comparto costiero in graduale attenuazione. È tutto per sapere maggiori dettagli sulle vostre località vi invito a restare aggiornati come sempre sulla nostra app gratuita Trevi Meteo. E dopo il meteo siamo pronti per iniziare a sfogliare assieme i quotidiani nazionali le prime pagine dei quotidiani nazionali vediamo i titoli di apertura a cominciare dal Corriere della Sera che apre con questo titolo così vaccinerò gli italiani sono le parole del generale figliuolo. Il nuovo piano di figliuolo arriveranno 45 milioni di dosi entro giugno. E poi la risposta alle parole del governatore della campagna De Luca che aveva detto di voler proseguire con una campagna di vaccinazione che non tiene conto esclusivamente del criterio d'età come chiesto invece dal commissario per l'emergenza. Fasce d'età no alle deroghe ha detto figliuolo. Governatore divisi sulle isole covid free. Alcune isole anche in questo caso avevano chiesto di seguire dei criteri diversi per la campagna di vaccinazione per consentire una riapertura il prima possibile e quindi anche un ritorno dei turisti. A centropagina la foto delle proteste di ieri a Roma, proteste di tanti operatori che in questi mesi non hanno potuto lavorare, complici le chiusure previste dalle misure anti covid. Io apro scontri e bombe carta al sit-in. Scontri a Roma tra agenti e ristoratori in piazza con lo slogan io apro e le manette ai polsi. Lanci di bombe carta, cariche della polizia e getti di idranti sui manifestanti. Salvini invita alla calma ma dice ripartire dove si può. È questa la prima pagina del Corriere della Sera che poi parla anche di politica con le tensioni nel Movimento 5 Stelle. Casaleggio e Di Battista vanno all'attacco. Il leader di Russo dice basta ambiguità. E poi per la cronaca al giallo dell'Emiro e del bambino sparito in Puglia. I genitori dicono Mauro è ancora vivo. E poi vediamo le prime righe dell'articolo che raccontano appunto la storia di questo bambino sparito appunto in Puglia. Dal Corriere della Sera andiamo adesso sulla prima pagina di Repubblica. Anche qui vediamo vaccini. La sfida di Draghi alle regioni di Belli. De Luca minaccia di non seguire le direttive sulle fasce di età. Il governo pronto a impugnare le decisioni diverse dal piano di figliuolo. Curcio della protezione civile dice centralizzare sarebbe un errore ma troppi non si prenotano. Di Maio incontra Blinken, il segretario di Stato americano, patto Italia-Stati Uniti su campagne vaccinali e Libia. La fotonotizia a centropagina ci porta a Parigi per vedere i lavori per la ristrutturazione, la ricostruzione della cattedrale di Notre Dame dopo l'incendio due anni fa. Dal fuoco all'acciaio così rinasce Notre Dame nel cantiere due anni dopo. Ancora dalla prima di Repubblica andiamo adesso sulla stampa Draghi due settimane per eh riaprire scrive la stampa in eh apertura. Vediamo anche un'intervista a eh Fedriga che dice diamo segnali a ristoranti e eh palestre. Franceschini pressing per cinema e eh teatri. Fedriga ha sentito in questo caso in eh qualità di presidente della conferenza delle regioni. Figliuolo avvisa De Luca nessuna deroga sui vaccini e scontro tra le regioni per le isole covid eh free. Chiudiamo anche la stampa e vediamo adesso il titolo di di apertura del manifesto. Eccolo qua obiettivo mancato titola il manifesto facendo riferimento alla promessa non mantenuta del generale Figliuolo da cinquecentomila vaccinazioni al giorno entro il venti aprile a trecento quindicimila. Il generale rivede al ribasso gli obiettivi del piano eppure le dosi non mancano scrive il eh manifesto. Nei frigoriferi ce ne sono sei milioni e infatti gli altri paesi europei corrono più eh di noi. Dalla prima del manifesto adesso andiamo sul gazzettino diamo uno sguardo a nord est e eh vediamo in apertura vaccini over sessanta entro giugno. Le previsioni in settimana ok tutti gli over ottanta. Appello a Draghi acquisti sul libero mercato. Al Veneto quattordici mila seicento monodose di Johnson e poi le parole di Zaia ogni giorno venticinque mila iniezioni ma possiamo fare di più. Arriva il quarto vaccino il Johnson and Johnson monodose e senza particolari condizioni di conservazione motivo per cui potrebbe essere facilmente utilizzato nelle farmacie. Aspettiamo le indicazioni vaccini di AIFA per eh la somministrazione. Ha puntualizzato ieri l'assessore regionale alla salute del Veneto Lanzarin. Ma il problema è che i vaccini sono sempre troppo pochi. Vogliamo concludere entro questa settimana la somministrazione agli over ottanta e dentro la primavera vogliamo fare gli over sessanta detto Zaia che ha anche rivolto un appello a a Draghi. Spero rompa il muro del contratto europeo e vada sul libero eh mercato. E poi vediamo Draghi ai tecnici del CTS riaprire in sicurezza ma regole meno rigide. Il premier sottolinea quanto detto anche l'altro giorno nessuna data finché i numeri non calano ma serve una ripartenza eh vera. E poi anche qui vediamo il dibattito sulle eh isole covid free, isole senza covid. Zaia e Federica stoppano eh De Luca. Non se ne parla serve equità nel paese anche per quanto riguarda appunto i criteri per la somministrazione dei eh vaccini. La fotonotizia eh la biennale di architettura nel segno della parità uomini e donne artisti equamente divisi si inizia il ventidue maggio. È uno dei progetti che vediamo in eh questa foto che sarà presentato alla eh biennale che aprirà in presenza dal ventidue eh maggio. E poi il gazzettino racconta anche una storia, la storia di eh una eh realtà eh padovana che ha rinunciato a chiedere i ristori. La nostra scelta etica. Rinunciamo a chiedere ristori. Avremmo potuto chiedere i ristori che ci sarebbero spettati ma non lo faremo. Scelta etica. Abbiamo perso moltissimo ma riusciamo ad occuparci dell'affitto dei fornitori e delle tasse. Così i titolari di una salumeria di eh Padova. Lasciamo le pagine del eh gazzettino sul quale ritorneremo più tardi quando andremo a vedere le news dal Friuli. Andiamo a vedere adesso anche la prima del Corriere del Veneto. Questa è l'edizione di Treviso e Belluno. Vaccini da domani i nuovi arrivi. La regione conta di eh chiudere la fascia over sessanta entro l'estate. Pressing su Draghi apra il apra al libero eh mercato. Eh Pfizer, AstraZeneca e Johnson & Johnson, la conferma di Roma sull'arrivo delle nuove dosi e poi Zaia che dice apriamo eh con gli over ottanta finiremo in eh settimana. E poi ancora vediamo a centro eh pagina questa foto notizia che ci porta a parlare di un fatto eh di cronaca studenti in dad bendati o con il volto al muro. Bufera a Verona. Il ministro apre un'indagine imposto durante l'interrogazione. La luna dice io eh umiliata. E poi di spalla gli ultimi dati sul mondo del lavoro. Continua la discesa. I dati del primo trimestre dicono un meno diciassette per cento. Addio stagionali soffrono le eh donne. Chiudiamo anche il Corriere del Veneto e spostiamo adesso la nostra attenzione eh sugli altri eh quotidiani nazionali. Andiamo sulla prima di eh Libero che titola allarme vaccini sono quasi finiti. Dice eh Libero. Figliuolo non fa miracoli. Arriveranno oltre quattro milioni di dosi. Poca roba. L'obiettivo di cinquecentomila iniezioni al giorno è un miraggio. E Zai appunto dice compriamo comprarne di più eh sul mercato. E poi ancora nel eh taglio alto eh il Libero ritorna sul sulla notizia delle case e dell'Inps del patrimonio immobiliare dell'Inps affittato a prezzi bassissimi. Ecco un elenco di case Inps a sbaffo gli appartamenti in zone centrali con affitti fuori mercato. Da Milano a Roma, da Firenze a Napoli c'è chi versa lente solo millequattrocento euro eh l'anno. E poi ancora un'altra notizia sempre sulla prima pagina di Libero che ci porta nel mondo eh del eh calcio. Il caso di Braimovic è pizzicato al ristorante in zona rossa. Buon appetito dice Libero non mandategli il pasto di eh traverso. Da Libero adesso vediamo la prima pagina del giornale fuori controllo scrive il giornale. Tensione sociale. Centinaia di persone in piazza a Roma per chiedere le riaperture. Scontri e bombe carta. Montecitorio blindata. E poi vaccini De Luca strappa Draghi pronto a fargli la guerra. Anche qui vediamo la notizia di Braimovic da volto anti covid a furbetto del eh ristorante la stella del Milan in eh zona eh rossa peraltro senza mascherina dice ancora il eh giornale. Chiudiamo anche questo quotidiano e andiamo a vedere adesso la prima del fatto quotidiano. Ecco il titolo di apertura dove hanno sbagliato figliuolo e le regioni. Titola il fatto strategia errata. L'Italia con quasi quattrocento vittime medie al giorno è il paese messo peggio in Unione Europea dopo la Polonia. I tagli di dosi sono ovunque e gli errori costano duecento morti quotidiani in eh più questi i dati alla base dell'articolo di apertura di oggi del fatto eh quotidiano. Ancora andiamo anche sulla prima pagina del sole ventiquattro ore e vediamo i titoli di apertura anche qui le notizie principali. Pagelle fiscali stop per un eh milione aiuti anti covid blocco degli obblighi dichiarativi per autonomi e professionisti in crisi. Interessati settori che accusano un calo del trentatré per cento per l'anno d'imposta duemila e eh venti e poi per le partite IVA ritorna la sospensione dei mutui garantita. In arrivo almeno un miliardo di sgravi per le eh assunzioni. E poi a centropagina l'intervista all'armatore Grimaldi che guarda oltre la crisi e dice pronti 1,2 miliardi per rinnovare la eh flotta. E poi eh nel taglio basso si guarda anche al documento di economia e finanza eh che ehm eh prevede uno scostamento di bilancio di 40 miliardi nel def scostamento a 40 miliardi questi i numeri al eh vaglio appunto eh del eh di questo articolo del sole ventiquattro ore uno scostamento che sarà fondamentale per gli aiuti per l'economia per il rilancio del dell'economia. Andiamo anche sulla gazzetta dello sport. Andiamo a vedere anche qui i titoli principali, i titoli di eh apertura. Eh Super Mister titola alla gazzetta a centropagina e vediamo la foto di Conte con la ehm il costume da Superman. Così Conte ha eh ribaltato l'Inter e la Serie A. Ha già guadagnato centosette punti sulle sei rivali d'alta classifica. Boom di bastoni, Barella e Lautaro. Lukaku vale più di cento eh milioni. In ventidue mesi ha rivoluzionato le eh gerarchie scrive la gazzetta dello sport. Poi nel taglio basso vediamo Tormenti CR7 vuole un posto tra le prime quattro e Juve più forte per rimanere. E poi vediamo anche qui Ibra un rosso tira l'altro al ristorante in zona eh proibita. Nel posticipo di campionato di eh ieri De Zerbi sbanca Benevento c'è il Sassuolo dopo le grandi passa grazie a eh un autorete. E infine nel taglio alto il mondo dei motori. Hamilton io sempre in battaglia sfido i razzisti e i eh record questa l'intervista della eh gazzetta dello sport di oggi. Torneremo più tardi eh sulla gazzetta dello sport sugli altri quotidiani sportivi nazionali. Adesso spostiamo la nostra attenzione sulla cronaca locale. Allora andiamo subito sulle prime pagine di eh messaggero Veneto piccolo e eh gazzettino. Cominciamo con il eh messaggero Veneto messaggero Veneto di eh Udine. E vediamo subito i titoli di eh apertura eh Civibank diventa società per azioni e guarda al Veneto. Il via libera alla trasformazione è stato dato dal novantaquattro per cento dell'assemblea. Del Piero dice è un passaggio epocale e il risultato non era eh scontato. Alla sua terza trasformazione in centotrentacinque anni di storia Civibank ottiene un sì quasi plebiscitario. Il novantaquattro per cento dei votanti ad un'assemblea molto diversa da quelle tradizionali causa covid che ha ottenuto anche un'ottima partecipazione. Duemila trecentocinquantun votanti. Un numero molto più alto rispetto alle assemblee in presenza. Notevole la soddisfazione della presidente Michela Del Piero. E poi sempre per quanto riguarda eh il l'economia vediamo Snyder o cede i marchi tedeschi eh questa è la novità per quanto riguarda il eh gruppo di eh Maiano. Andiamo a centropagina adesso con la fotonotizia che eh ci mostra le eh campagne, i ehm i vigneti ma anche e soprattutto le coltivazioni di alberi da eh frutto. In questo caso alla prova del freddo primaverile acqua e fuoco per salvare le coltivazioni dal eh gelo. Tra le aziende che sono ricorse alla strategia antigelo c'è la pomis che coltiva mele su trenta ettari tra Montegliano, Bicinico e eh premariacco. E poi vediamo le altre notizie richiamate in eh prima pagina di spalla quelle legate al eh covid eh in questo caso vaccinazione. L'obiettivo è immunizzare quarantadue mila persone in una eh settimana. Questo è il piano per il eh Friuli Venezia Giulia. Dai medici arriva un appello agli over 80 che eh agli over 60 scusate che non eh vogliono vaccinarsi. Il rischio legato ai vaccini è molto inferiore al pericolo eh covid. Ieri una nota dell'ordine dei medici che si rivolge così a quanti devono ancora eh vaccinarsi. E poi il dibattito politico sui numeri delle terapie intensive. Fedriga dice i dati sono confermati dalle eh aziende ancora sempre sulla prima pagina del messaggero Veneto di Udine vediamo eh di spalla anzi vediamo prima nel taglio alto visto che ci sono due notizie legate sempre al all'emergenza coronavirus alla ripresa delle attività ieri dopo il ritorno del Friuli Venezia Giulia in zona arancione il ritorno in classe alle superiori tra i ragazzi timore per i contagi. Riaprono negozi e parrucchieri e dura proviamo a eh ripartire dicono. Vediamo di spalla adesso a Udine un imprenditore si fa avanti ristorante nell'area ex dormisce. Questo una eh novità per il recupero eh dell'area. la crisi comunale a San Giorgio di Nogaro ma il sindaco resiste non mi eh dimetto. Cameriere non pagate dichiarata fallita la trattoria alle Alpi. E poi camionista licenziato tenta di aggredire un vigilante all'ABS. Andiamo adesso sulle pagine interne del messaggero Veneto di Udine sulla prima pagina del fascicolo dedicato alla città e alla provincia e vediamo appunto il ritorno in classe e ieri o al lavoro per eh commercianti, parrucchieri, estetiste. Cominciamo con il ritorno alle superiori tra entusiasmo e timori. Chissà quanto dura si chiedono i ragazzi. C'è chi non vedeva l'ora di rivedere i compagni e chi non gradisce i doppi turni. Poi le paure del contagio e le difficoltà nel seguire le lezioni con metà classe a eh casa. Tra eh le cose più contestate dai ragazzi l'orario dieci, quindici non ha senso. Non abbiamo nemmeno il tempo per studiare dicono gli studenti. E poi vediamo i negozi, riaprono i negozi e le parrucchiere. Voglia di normalità. Il primo lunedì in zona arancione è rovinato solo dalla pioggia. Le perdite sono state importanti e i ristori non all'altezza dicono eh pronti a tenere aperto il più possibile per molte attività. Il lavoro non eh manca. Dal messaggero Veneto di Udine andiamo adesso sulle pagine del messaggero Veneto di Pordenone e vediamo anche qui i titoli eh principali. Vediamo il titolo di apertura e anche la fotonotizia a centropagina. Sono le stesse che abbiamo visto anche sull'edizione di Udine. Allora andiamo di spalla dove troviamo alcune news di cronaca che ci arrivano appunto proprio dalla destra a tagliamento a Pordenone. Un incidente stradale grave un ragazzo investito in via San Valentino stava correndo con la bicicletta. E poi il caso eh del dell'uomo che è eh morto a causa di un allevamento di un avvelenamento dopo aver mangiato una ehm un pesto fatto con una con un'erba velenosa, pesto avvelenato, l'autopsia, a quella dose si rivelò subito eh mortale. Ancora un ristorante al posto dello storico stato di Naon e a Sacile in centinaia presentano la domanda per fare il eh bidello. Andiamo anche sulla prima pagina del fascicolo dedicato a Pordenone e vediamo anche qui il ritorno a scuola sotto la pioggia e c'è già una classe in eh quarantena. Contagi all'Isis, Zanussi, montate le transenne fuori dal Grigoletti dove il cantiere aveva limitato i eh rientri. È questa la situazione a eh Pordenone. Chiudiamo anche questa pagina che qui torneremo poi e sulle pagine sportive e adesso andiamo a vedere la prima pagina del piccolo. Questa è l'edizione del piccolo di eh Gorizia. Obizi sospeso fa rientrare il caso Iris Acqua. Basta il passo di lato eh dell'assessore per silenziare i sindaci Isontini che lo avevano eh attaccato e eh furlandice fatta eh chiarezza questo eh il caso Iris Acqua che dunque va verso una eh soluzione oggi atteso un comunicato ufficiale proprio di eh Iris. A centro pagina le agende dei parrucchieri e piene di eh appuntamenti e poi ancora eh di spalla arriva la web app per prenotare il vaccino da casa si parte oggi ovviamente prenotazione eh permessa solo alle ehm categorie alle fasce eh d'età che in questo momento possono prenotare il eh vaccino. Ancora andiamo anche eh sulla pagina del gazzettino del Friuli cambiamo eh quotidiano e andiamo a a vedere le news eh in primo piano sul eh gazzettino eccole qua subito l'apertura a corsa al vaccino si prenota online da oggi l'applicazione su internet per l'appuntamento. Fedriga promette entro aprile ottantenni eh protetti questo l'obiettivo da raggiungere le RSU iniezioni vicino all'ospedale gli infermieri sono pronti nella bassa medici di base già al lavoro ma slitta il mini hub. L'obiettivo è emettere il turbo non tanto alla campagna vaccinale che procede bene quanto alle adesioni che in alcune categorie possono ancora crescere. Il secondo target è quello dei più giovani a cui toccherà il vaccino in futuro. In generale è un passo avanti che mancava. Da oggi in Friuli Venezia Giulia il vaccino lo si può prenotare anche su internet. Intanto nell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale c'è la proposta dell'RSU avvicinare i poli vaccinali agli ospedali in modo che prima del turno pomeridiano o dopo aver smontato infermieri assistenti sanitari possano dedicare qualche ora a immunizzare i cittadini autosufficienti. ancora migranti irregolari fermati sul territorio regionale a Udine, clandestini e altri 21 portati all'ex caserma segnalati dai cittadini di San Giovanni camminavano sotto la pioggia battente cittadini di San Giovanni al Natisone. Un'anticipazione delle news sportive a centropagina Udinese in ritiro senza Deulofeu per uscire dalla spirale di risultati negativi. Tre sconfitte consecutive da stasera giocatori e staff andranno in ritiro a preparare la delicata sfida di sabato a Crotone. Non c'è Gerard de Lofeu in Spagna per l'operazione al menisco del ginocchio infortunato. Di spalla anche sul gazzettino il futuro dell'area ex dormish contatti a tutto campo per l'ex birreria e poi la politica 5 stelle chiarezza sul futuro dell'inceneritore di Manzano chiarezza sul destino di questo impianto viene chiesta dal movimento 5 stelle. Andiamo nel taglio basso adesso. La distanza digitale si accorcia in Friuli Venezia Giulia con l'estensione della banda ultralarga attraverso la rete Fiber che permette di raggiungere oltre il 99 per cento delle famiglie del Friuli Venezia Giulia. Ancora andiamo a vedere anche l'altro articolo. Scuola al via fra bus in più e quarantene. Ieri appunto la ripartenza. Taser parte il corso di formazione per gli agenti della polizia locale che avranno in dotazione le pistole a impulsi elettrici. Andiamo anche nel taglio alto e vediamo le altre notizie che ci portano nelle pagine della cultura e degli spettacoli. Polente Against the Machine, l'antidoto di Franco Polentaruti è uscito il nuovo catalogo di fotografie e poesie dall'autore San Giorgino con foto di Luca D'Agostino prodotto dalla Cop Slow Cinema. Emiliano Grisostolo firma un corto su Folletti e Anguane in Val Piccola. E poi è sei show per sei festival intersezioni lancia la col bando per artisti e gruppi. Queste le notizie principali nelle pagine della cultura ma noi adesso andiamo subito sulle pagine sportive e iniziamo a dare un'occhiata agli articoli dedicati all'Udinese ma non solo. Il decimo posto chiesto da Pozzo passa da tre gare fondamentali. Nei prossimi 270 minuti le avversarie saranno Crotone, Cagliari e Benevento. Bisogna svoltare. Il ritiro servirà a trovare la giusta concentrazione in vista dell'anticipo sul campo dei calabresi. È il momento di non perdere la testa, scrive il Gazzettino, di rimanere calmi e possibilmente tranquilli per non aggravare una situazione che, stante la classifica, è comunque sotto controllo. Intendiamoci, l'Udinese l'anno prossimo disputerà il suo 27esimo campionato in A. Il problema è un altro. Dalla squadra è lecito a tendersi di più analizzando il suo potenziale. Gli 11 punti di vantaggio sulla terz'ultima dovrebbero anche migliorare l'autostima e offrire ulteriore fiducia per il finale del torneo. Quindi sabato alle 15 a Crotone la squadra di Gotti è chiamata a rialzare la testa. Anche se Deulofeu oggi si opererà a Barcellona quasi sicuramente non rientrerà più in questo campionato. Certo, in terra calabra non saranno tutte rose e fiori. Il match, anzi, dovrebbe tramutarsi in un'autentica battaglia. E poi vediamo l'articolo che prosegue nel taglio basso l'approfondimento su Deulofeu sotto i ferri, ma voglio tornare presto, ha detto lo spagnolo che si opera al menisco. La sua stagione sembra finita. E poi vediamo di spalla di Natale debutta come mister a Carrara. Giovani allenatori, ex bianconeri crescono e aprile è stato finora un mese molto intenso sotto questo punto di vista. Prima l'ex difensore centrale Maurizio Domizzi è stato promosso sulla panchina della prima squadra del Pordenone e poco dopo Antonio Totò di Natale è stato ingaggiato dalla Carrarese Serie C per sostituire proprio quel Baldini che era stato il suo mentore ai tempi di Empoli quando stava iniziando a nascere la sua stella. Andiamo anche sulla pagina successiva e vediamo il punto del martedì di Fulvio Collovati. Otto gare per mostrare concretezza e grinta. Il filotto di tre partite da giocare in otto giorni vale come un autentico esame di maturità, scrive Collovati. È arrivata la terza sconfitta consecutiva per l'Udinese, una battuta d'arresto in attesa contro una squadra alla portata che ha avuto solo il merito di essere più determinata e di credere nel colpaccio. La sconfitta non preoccupa per le conseguenze di classifica visti pure i risultati di chi sta dietro. A preoccupare è l'involuzione tecnico-tattica della squadra che contro il Toro ha prodotto un'unica occasione da gol con Molina e poi nient'altro. La società corre ai ripari imponendo un ritiro che richiama i calciatori alle proprie responsabilità. L'atteggiamento molle e svogliato delle ultime uscite non è più ammissibile perché il campionato è ancora lungo. Il ritiro era stato disposto già per preparare la gara di sabato, poi annullato come segno di fiducia da parte del club nei confronti dei ragazzi. Un atto per responsabilizzare la squadra. La risposta non è stata quella che la società ma anche i tifosi si attendevano, non solo per il risultato quanto piuttosto per l'atteggiamento. Un problema più volte venuto a galla in questa stagione è inspiegabilmente mai risolto. Questo l'inizio dell'articolo di Fulvio Collovati che dice poi a Crotone bisogna vincere per invertire il trend e offrire un segnale forte chiudendo il discorso legato alla salvezza. Ancora vediamo di spalla un motore da sfruttare da sfruttare con due punte e Machengo va sfruttato meglio il potente motore bianconero. La squadra a questo punto deve osare di più e cambiare marcia, scrive ancora il gazzettino. Chiudiamo questo quotidiano e andiamo a vedere gli articoli che troviamo sul messaggero Veneto. Vediamo anche qui l'udinese in apertura del fascicolo sportivo. C'è il interesponso stagione finita per Deulofeu. Il consulto che ha confermato i timori anticipati del catalano, intervento al menisco del ginocchio destro tra oggi e domani. Dopo il consulto è arrivata la decisione e con essa l'addio alle residue speranze di rimettere in piede in campo entro la fine di questa stagione, visto che il campionato si concluderà il 23 maggio. A Barcellona è stato visitato dal professor Monlua Garcia che aveva ricostruito i legamenti già nella primavera 2020. Due mesi per il recupero così salta l'ultima speranza espressa nel post su Instagram rientrare per il finale di questa stagione e vediamo poi nel taglio basso dopo il giorno di riposo questa sera scatta il ritiro. Andiamo anche nella pagina successiva e vediamo anche qui un altro articolo. Vediamo il problema del gol, i due partiti dei tifosi e un unico rimpianto, troppi infortuni, l'udinese si è inceppata sul più bello, i supporters analizzano i perché più che il modulo sbagliato sono i capò di Pussetto e Deulofeu a pesare, questo secondo i tifosi. Rimaniamo sulle pagine del Messaggero Veneto per un passaggio anche sul Pordenone, andiamo a vedere anche qui l'articolo. Domizi prepara un Pordenone a più facce, il modulo di partenza resta sempre il 4-3-1-2 ma a gara in corso il tecnico intende usare il 4-2-3-1 o addirittura il 3-3-4. Questa l'analisi fatta dal Messaggero Veneto, domani tornano in gruppo Vogliacco e l'altro giocatore polacco del Pordenone. Nel taglio basso, 8 punti alla salvezza, bisogna farne 4 tra Frosinone e Reggiana, dice il procuratore Federico Francioni che fa le carte al finale di campionato. Lascoli è la squadra più in forma ma ha un calendario impegnativo. E adesso torniamo a parlare di Udinese andando sulle pagine della Gazzetta dello Sport, andiamo a vedere anche qui l'articolo dedicato ai bianconeri e 5 punte e solo 10 gol. Udinese col mal d'attacco, scrive la Gazzetta. Gli infortuni di Pussetto ed Eulofeu, i problemi di Okaka e il ritardo di Llorente. Stagione nera per il reparto offensivo, dice ancora la Gazzetta. E poi vediamo appunto tutto l'articolo di Nicola Angeli che inizia così. Il torto più grande è non riuscire a fare gol. Abbiamo difficoltà a segnare anche a porta vuota. La sintesi delle difficoltà offensive dell'Udinese è tutta nelle considerazioni di Luca Gotti dopo la gara con il Torino. E poi vediamo di spalla un altro articolo con le parole invece del direttore tecnico Marino. Marino difende il lavoro di Gotti, fiducia in lui. L'obiettivo resta al decimo posto. Ognuno di noi può fare meglio. Da oggi la squadra è in ritiro. Queste le parole di Marino. E poi anche qui vediamo tutto l'articolo. Chiudiamo questa pagina della Gazzetta dello Sport e rimaniamo sui quotidiani sportivi nazionali per andare a vedere i titoli di apertura anche di Tutto Sport e Corriere dello Sport. Cominciamo con Tutto Sport a centropagina. Bomber di mercato. Gli uomini gol al centro delle trattative. Il Lione si fa vivo per Belotti mentre Di Bala scatena l'interesse del Paris Saint Germain e della Premier. Chelsea e Manchester United. Vlaovic tentazione. Milan. Ancora vediamo nel taglio alto riabilitare signori. Patrizia Brandi, avvocato dell'ex bomber e riconosciuto innocente dopo dieci anni. FGC il calcio è il suo mondo. Per il tennis. L'invasione Italtennis. La nostra racchetta in forte crescita si candida a essere la padrona del futuro e a Torino arriva la Davis. Di spalla sì europei all'Olimpico. Queste le parole di Vaia, direttore dello Spallanzani. Ballanzani. Inter al top in Europa, media punti da record. E poi addio Bolles Ananima del Rebbe, capitano e CT. Per quanto riguarda il calcio vediamo questa sera Champions League, Paris Saint Germain Bayern e Chelsea Porto. Andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport. CR7, bufera social, Ibra, bufera Covid. I campioni di Juve e Milan, protagonisti ma in negativo. Ronaldo e la maglia lanciata, le critiche dei tifosi. E poi Zlatan al ristorante in zona rossa per lavoro, dice questa la spiegazione. Ancora poi per quanto riguarda il calcio Champions a 75-78 punti. È partita la volata per i posti alle spalle di Conte. Il Napoli e la Lazio puntano sugli scontri diretti. È la corsa sul Milan. E intanto ieri, come abbiamo visto, il Sassuolo batte il Benevento, sbaglia Barba, Benevento KO. E poi anche qui il ritorno dei quarti di Champions, PSG Bayern, la rivincita. Con la prima pagina del Corriere dello Sport si chiude anche questa nostra rassegna stampa di oggi. Come sempre abbiamo qualche minuto di tempo per ricordarvi i principali appuntamenti di oggi sul nostro canale. Noi ci rivediamo alle 10 con la prima edizione del nostro TG in diretta. Informazione live anche alle 12, alle 16, alle 19 e alle 22 e 30. Alle 15 l'appuntamento con pomeriggio calcio. Alle 17 e 30 la gara di basket tra Treviso e Sassari. E poi è martedì. È il giorno del basket e allora alle 21 l'appuntamento. è con basket a nord-est. Ci fermiamo qui per questa nostra prima diretta. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata su Dinese TV.